Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Call of Duty Mappa Verg Siamo appunto in postazione Questa qui è una delle mappe nuove che mi piace di più in assoluto Per gli scenari che ci sono, veramente È una cosa spettacolare Allora, la postazione Eccola qui, 200 points per me Te levi, che cavolo ti sdrai qua sotto a me? Che poi muoio brutalmente Vai così con le doppiette E subito l'Uav, raga Subito l'Uav, così vedete Occhio da dietro, occhio da dietro, occhio da dietro Occhio dietro, raga Controllo io da dietro No, preoccupa voi Sì, invece preoccupa perché io adesso Doppia Cavolo, cavolo, cavolo C'ho gli apro, c'ho gli apro, raga Quanto cavolo sono? 5-0 Ma dai, appena detto Vabbè, lanciavo questi belli apro qui Perché non ho ancora cambiato Le mie, qui le score streak E vi voglio parlare ragazzi Oggi del nuovo Call of Duty Come ben sapete Un paio di giorni fa È uscito Uh, il talon, ottimo Il video del nuovo code Dove non è che si capisca Si capisce bene Che siamo nello spazio Però Non si sa proprio C'è solamente la campagna Oppure ci saranno proprio delle mappe In mezzo Ma che cavolo Nello spazio E come cavolo ci si muoverà In alcune Immagini Si vede chiaramente Che tipo I giocatori hanno sulle spalle Guarda lì qua questi Hanno sulle spalle Stavo dicendo E te vuoi morire? Uh, no Dai, avevo fatto piazza pulita lì Un jetpack Quindi Eh, non so se ci saranno Sinceramente Movimenti strani Cose Dell'altro mondo Io Mi auguro Almeno tutti noi Ci auguravamo Che fosse un code Abbastanza tranquillo Però ciò Non è avvenuto Olè Avanti, passa Behind Uh, grandissimi Vai, mando anche Già l'UAV Quindi voglio sentire I vostri pareri Riguardanti Ma questo Non c'era nella minimappa Dai No, aspettate Qua poi mi uccidono Voglio sentire I vostri pareri Cosa ne pensate? Soltanto dal trailer Ragazzi So che bisognerebbe giocare A un gioco Per poi Sapere Questo non gioca Free kill Per appunto Puoi fare una valutazione Però A me Dal trailer C'erano delle cose Che mi piacevano Altre No Quindi Sono curioso appunto Di sapere Le vostre Opinions Oh, guarda questo Da che parte Arriveranno Ma sì Questo si è girato Guarda i colpi Che non gli arrivano Che schifo Che schifo Io ho anche Quattro di tacche Maledetto Bastardo Eh sì Poi c'era Quell'altro No Ah cavolo Nel trailer Proprio Quando Sono saliti Nella navicella E hanno Incominciato A volare Come Non so cosa Su nello spazio Ho detto Oh Aspetta Se respiro Ok Siamo Completamente Fregati Ehi Cosa volevi Fare Là Nella Quetta Veccavolo Sono i nemici Dove cavolo Sono Provati Oh Le Non c'è nessuno No Da sopra Vi devo Dalla minimappa Vabbè Lanciamo Questi Appro qui Oh Mai Dei raps Ed è una vita Che non mi capitano I raps Negli approvvigionamenti Si vede Che hanno fatto Una patch Qualcosa Perché Li trovavo Molto più spesso Guavi di disturbo È una cosa Abbastanza Sconcertante Sono curioso Poi di vedere Le mappe nuove Ragazzi Poi tra poco Ci sarà Ma dai Quello camperato Lì nell'angolo Che schifo Che fai Che schifo Guarda È ancora lì Incredibile Incredible My friend Te levi Quadrupla Quintupla Spostazione Spostazione Persa Sì Lo dici Te Amico Spostazione Localizzata Uuuuh Mela doppia Della R.C.X.D O come cavolo Si chiama Sta roba Qui nuova Non ho ancora Ucciso Nessuno Col Tomahawk Fire Ehi Borcellini Ma dai L'ho ucciso E quello Omega Ucciso Prima Incredibile Dai ragazzi Andiamo 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 Che abbiamo Preso La postation Dov'era Della minimappa Era dall'altra parte Comunque Nei miei discorsi Mi sto perdendo Brutalmente Vi sto parlando 30 secondi E poi me perdo Eccola Mia Bastardi Mi mancano Un po' Gli Tomahawk A cross the map Poi comunque Mi stavo dimenticando La parte Più importante Ragazzi Ovvero Che vuoi morire Quella Che faranno Code 4 Code 4 Remastered Remastered Come cavolo Potete chiamarlo Ma ero dietro le gomme Dietro le gomme Quindi Sicuramente Farò Video Su Modern Warfare Assolutamente Guarda questo Come è che la campera Mi uccidono Adesso nel primo periodo È diventato Una kill Un morto Una kill Un morto Cioè è veramente assurdo Non riesco a fare Una serie di uccisioni Manca Il tempismo Poi Incredibile Cioè isco E muoio Non ci voglio credere Vi stavo dicendo Assolutamente Farò Di nuovo Delle serie Su Code Modern Warfare Cioè Occhio Occhio Ok Ah ok Qua in acqua L'RCXD Non va Pareva che uscissi Dai l'ultima Uccisione la faccio Con l'RCXD Veramente da infame Guarda quello Guarda quello Ne uccido qualcuno Cavolo Entro nel gioco E li uccido A mani nude Questi Basta Con quel cavolo Di cecchino Incredibile E allora Dovrò fare Piazza pulita Così Come non detto Con il cecchino Mi è garotto E anche te Mi hai rotto E poi la granata A caso Muoio Però le ultime due Uccisioni mie Mi pare D'aver visto Lì ragazzi Riguardiamo Immediatamente Rulli di tamburo Eccoli qua 32 27 Che schifo 1.53 Impostazione Prosto difesa Punteggio Nulla di che Ragazzi Spero comunque Il video vi sia piaciuto Ditemi cosa ne pensate Del nuovo code Cosa vi aspettavate Cosa avete visto Dal trailer Io vi saluto Vi ringrazio E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti